Bassano sta perdendo sempre più pezzi, questa volta sembra che tocchi proprio la caserma dei carabinieri di Via Emiliani. Io mi auguro sia l'abbaglio da parte di qualcuno, perché è l'ennesimo scarico nei confronti dei cittadini di questa spend review, lo stiamo già pagando con il Tribunale e non vorrei che anche la sicurezza venisse ad essere compromessa. Una sicurezza, un'allarme sicurezza richiesto non solo da chi vive, ma anche da chi lavora, i commercianti in primis, in una città come Bassano. Beh, questo sicuramente sì. In questo momento stiamo vivendo, a mio avviso, un attacco che la città sta subendo da parte della malavita. So che sono state avvistate delle persone che hanno fotografato dei campanelli nelle giornate di sabato e giovedì, sono stati già segnalati alle forze dell'ordine, però il fatto che vengono fotografati i campanelli, palazzi, negozi, insegne, è una cosa che secondo me è inquietante. Lo stesso Assessore Elena Donazzana ha dichiarato se i carabinieri, essendo appunto militari, non possono dar voce a questa volontà di restare in un territorio, tutelare un territorio, devono essere i cittadini, devono essere le persone, le categorie che danno voce a questa loro volontà di restare a proteggere un territorio. Sicuramente diventeremo tutti noi cittadini, le categorie economiche in primis, il megafono di queste forze dell'ordine, perché hanno bisogno di essere sostenuti, perché sono i nostri angeli custodi e come tali devono essere aiutati.